Ben trovati gentili telespettatori, quest'oggi ospite nei nostri studi Domenico Di Luccia. Ben trovato Domenico Di Luccia. Buongiorno a te direttore, buongiorno ai telespettatori che ci seguono da casa, agli amici di Cilento Channel. Ecco, Domenico Di Luccia, consigliere comunale di Castellabate, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni. E quindi la nostra redazione lo ha contattato per ufficializzarla anche attraverso i nostri canali. Domenico, dunque, subito la domanda che introduce questa tua discesa in campo e candidatura a primo cittadino della città di Castellabate. Le motivazioni di questa scelta? Ebbene, le motivazioni sono da ricercare soprattutto nel forte senso di appartenenza alla comunità. Ho sentito sempre forte il senso di appartenenza alla mia comunità, portando avanti la mia esperienza politica con senso di abnegazione, di entusiasmo, di concretezza, mettendo al centro sempre dell'attenzione la crescita della mia comunità, del mio territorio. E l'ho fatto servendo il mio territorio in una maniera forte, passionale. E quindi ho avvertito il dovere, alla fine di questa esperienza amministrativa che mi ha visto protagonista nelle passate amministrazioni, ho avvertito l'esigenza di mettere a servizio della mia comunità la mia esperienza in un'altra veste, in un altro ruolo, in un ruolo di maggiore responsabilità che determina ancora di più uno sviluppo del nostro territorio. E quindi la giusta sinergia deve nascere tra l'esperienza del passato e le menti nuove, la novità delle menti fresche, giovani, che mettono a servizio del territorio nuove idee. E quindi l'esperienza del passato, unita alla novità del presente, fa di Castellabate un territorio che può essere davvero un motivo di sviluppo turistico, culturale, economico. Cioè una nuova visione dello sviluppo a 360 gradi. Ecco, devo dire che sei stato capace di riassumere in breve non solo la tua motivazione, ma anche la tua progettualità per il futuro. E quindi non mi resta altro che chiederti a questo punto quale sarà il prossimo step. Tu oggi ufficialmente esci allo scoperto, ci sarà una squadra, c'è già una squadra, raccontaci magari per capire bene adesso, perché poi l'apertura ufficiale della campagna elettorale arriva proprio da te, perché fino ad oggi nessuno ancora si è espresso o sbaglio. Certo, come ho scritto nel post di presentazione della mia candidatura, questo è il momento delle scelte. Sono scelte forti, sono scelte che determinano una responsabilità maggiore, perché si assumono delle responsabilità maggiori e io sono pronto, mi sento pronto per guidare il mio territorio, il mio comune, dall'alto dell'esperienza acquisita nel corso di questi anni. E quindi di portare Castellabate in una dimensione nuova, in una dimensione diversa, unito a delle persone nuove. E quindi dicevo in una precedente intervista della necessità di puntare in maniera sinergica, in maniera forte a uno sviluppo e a un ricambio generazionale. Cioè la mia volontà è quella di guidare Castellabate per i prossimi cinque anni con una squadra giovane, una squadra nuova, una squadra intraprendente, che mette al centro del territorio la crescita turistica soprattutto, perché credo fortemente il mio programma politico, della mia nuova compagine amministrativa, si baserà principalmente sullo sviluppo turistico del territorio, una nuova visione turistica del territorio. E questo è il mio punto di partenza. Quindi ricambio generazionale, nuova visione del territorio, quindi uno sviluppo turistico del territorio, inteso nella realizzazione di quelli che sono i servizi primari per lo sviluppo del territorio, sempre in senso turistico, e quindi che poi a cascata determinano uno sviluppo occupazionale, uno sviluppo culturale, uno sviluppo sociale del territorio. Ma al centro del mio programma politico vi è lo sviluppo turistico della mia comunità. Quindi ricambio generazionale e sviluppo turistico sono i due capisaldi su cui si muoverà la mia azione politica. Quindi la compagine amministrativa, per ritornare alla domanda, è quella che va su una idea nuova, fatta di persone nuove che credono nel ricambio generazionale, che mettono al centro dell'azione politica lo sviluppo del territorio. Bene, io ti ringrazio in attesa dunque di conoscere anche la tua squadra. Ti auguro un buon lavoro. Grazie a te, grazie ai miei concittadini che mi seguono così attentamente ed è proprio grazie alla loro stima, alla loro fiducia che mi hanno riservato che io ho deciso di compiere questo difficile e intraprendente passo. Grazie a tutti e grazie a te, direttore, per l'opportunità che mi hai dato oggi di presentare anche negli studi televisivi la mia candidatura a sindaco di Castellabate. Grazie Domenico Di Luce. Grazie a voi.